Ciao amici, siamo al castello di Inverness e inizieremo a percorrere la Great Glen Way in direzione Fort William e niente, seguiteci. Buon appetito, ciao. Iniziamo la camminata costeggiando il fiume Ness, sono un sacco di questi bellissimi bollini quindi non ci si perde. Siamo a Inverness nel campeggio, l'unico che c'è tra l'altro, costa 10 pound a testa, intendo ovviamente questo è il prezzo riservato ai backpackers che hanno questa zona qua che è un prato. Abbiamo comunque accesso ai servizi igienici, la doccia e la lavanderia. Sì, è un po' difficile trovarlo. Sì, non l'abbiamo tratto subito, però... Perché nella mappa che abbiamo non è specificato bene. Però quando, se venite, ci sono gli impianti sportivi addietro. Vicino al campo da golf. Comunque vi metto un'immagine qui davanti in sovraimpressione così vi fate un'idea anche voi di dove sta. Comunque è una soluzione comoda se come noi si affronta il viaggio così lungo perché alla fine siamo partiti ieri sera e siamo arrivati adesso quindi ci sta riposarsi e lavarsi. Lì c'era il campeggio. Ritorniamo sulla Great Line Way. Buongiorno. Buongiorno. Siamo ritornati sulla Great Line Way. È una giornata ventosa e sembra anche con un po' di pioggiorellina. No, va bene. Inizia il giorno 2, perché è giorno 1. Ufficiale. Siamo sul Caledonian Canal, che è questo qua, e andiamo verso... Qui c'è anche qualche curiosità geologica, archeologica, eccetera. Molto carina riguardo a questo bellissimo punto dove ci troviamo. Praticamente la Great Glen Way è impostata lungo una faglia di tipo strike slip che si chiama Great Glen Fault, ovviamente, che è una transfer fault sostanzialmente che collegava due faglie normali. Il Caledonian Canal e più avanti vedremo come mai è così interessante perché è un'opera ingegneristica che collega le due coste della Scozia. Attualmente ci troviamo nella parte orientale e andremo verso la parte occidentale a Fort William. Una passeggiata molto gradevole. Il clima è un pochino... non dai migliori ora, ma comunque dai, se non altro ha smesso di piovere per il momento. Sopra c'è scritto in inglese e sotto in gaelico. Il gaelico è diventato la lingua ufficiale della Scozia nel 2006, però ancora sono pochi quelli che lo parlano. Questi paletti sono presenti dappertutto davvero dove serve e rendono davvero molto facile individuare il sentiero. Camminando qui nella prima parte, uscendo dall'area urbana, ci sono un sacco di campi da golf. Si lega a questa parte di piazza, eh? Andati via i primi sei chilometri e mezzo. Per Fort William molto educatamente non li mettono. Andiamo. C'è pure il sole per ora, finché dura. Siamo arrivati al laghetto del quale già non ricordo più il nome. Molto profondo. Si è scritto che è molto profondo e da lì si vede la costa. Ah ok, è così. Chiudeteli sempre. Lasciateli almeno come li trovate. Siamo su una bellissima strada forestale che ci accompagnerà per un bel po'. Facile camminata, di livello molto distribuito nei chilometri che sono abbastanza comunque. Per ora non abbiamo ancora visto un gran paesaggio se non una vista quella di prima su Inverness e sulla costa. Vediamo. Il sole, la pioggia e vai. Ehi la. Piove, ha smesso appena smesso di piove, hai detto la verità. E siamo a lungo questa bellissima strada forestale qui. che è praticamente così da un'oretta. E' ben battuta, un po' umido per terra ma vabbè. Piove. Ecco praticamente la strada è questa qua dritta, sempre dritta 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 e la strada forestale. Stupenda la vista, molto molto bello, col sole è ancora meglio. Finalmente vediamo qualcosa di spazio. Ti tengo a dire che questo video sono velocizzato, quella palla sta davvero andando così forte. Infatti non facciamo mica volare il drone. Per ora. Per ora. Speri l'arra. Per ora. Si. Speri la strada. Egnati. Piazza. Per ora. スperi. Paola. Per ora. Per ora. Speri. Per ora. Speri. Ci sono questi punti qui lungo il cammino, qua siamo vicino allo Clyde e si può prendere un po' di acqua fresca. Ci allontaniamo un attimino, ma proprio per un attimo dal sentiero principale, andiamo lì dove ci sono delle panchine a mangiare perché si è fatta ora. Asciughiamo un po' la tenda e intanto buon appetito. E questi sono anche i bagni. Bellissima sosta quella di Abriachan, non so come si dice. Fine della pausa pranzo, ora ripartiamo e ce ne andiamo verso Rumnadrochit o come si chiama. Mancano 10 chilometri e mezzo. Eccola qua, ciao amore. Questa è la nostra strada che dobbiamo camminare per un bel po', però dai se è una strada si va veloce. Lungo il cammino ci sono queste baccheche interessanti con qualche curiosità di carattere botanico, geologico o anche storico. Sono davvero carini. Manca sempre meno, non è un cazzo vero, manca solo chilometro e otto il meno. Vai! Questa è una Lucrezia selvatico che cerca di fare la foto al mostro di Loch Ness attraverso gli alberi. Certo. Questa è il Loch Ness. Siamo appena fuori dal sentiero e c'è un bellissimo punto panoramico che si affaccia qua su Loch Ness. Si scende adesso sul sentiero però finalmente si va giù. Questo sarebbe un punto panoramico. Moré. Qui viene spiegato un attimino cos'è quel castello là. Quelle sono le rovine di questo castello. Vista su Loch Ness davvero molto bello. Immenso questo lago. E qui il nostro sentiero. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Siamo arrivati a Tram, a Drochit. Che è questo qui. Un paesino sulle direi del Loch Ness. Abbiamo trovato qui un bellissimo campeggio che ci permetterà dei riposaggi. 10 pound e 50 a testa. Si 10 pound e 50 a testa. Qui c'è anche la wifi. E le luci. E le luci si. Ok. Una cosa dimenticavo. Si può pagare anche con la carta qua. . L'abbiamo. Ci sono i propri tuoi di un cuore del piano. Non c'è, non c'è l'amore ai. hanging a andare nonci o blotassKOch upa natal. Grazie per la visione!